Il prossimo si chiama Nico Ciao a tutti, sono Nico Arezzo, ho 21 anni e vengo da Ragusa Vedi da Ragusa? Da Ragusa, sì Da Ragusa Senti, lì nella tua casa di Ragusa so che era una specie di show continuo? Costante, consideravo mio padre pianista Mia mamma ballerina si respirava un'aria strana a casa in pratica Cioè che succedeva? Cioè considera, la mia stanza era la stanza più grande E quindi mia mamma ogni tanto veniva, entrava, si provava le coreografie La stanza accanto c'è lo studio di registrazione di mio padre Quindi si capisce un po' cosa facevo durante il pubblico Questa era casa tua? Sì E a un certo punto hai detto ai tuoi genitori, me ne vado? Sì, allora considera, sì, avendo così tanta arte Forse avevo bisogno di capire quale fosse la mia in mezzo a tutta questa Non confusione, in mezzo a tutto questo spettacolo E quindi dovevo andare via E sei andato a Bologna? Sono andato a Bologna E lì che cosa hai fatto? E lì sto studiando conservatorio Ma diciamo che ho trovato un po' la mia arte Ho trovato un po' la mia strada e basta Senti, ma quando ai tuoi genitori o quali hai, avevi e hai un bellissimo rapporto Gli hai detto voglio andare via Gli hai detto con una canzone Certo, con questa Con questa che adesso suori Vieni Vieni, vieni